Ecco, il fatto di dover traslare tutto sull'online, diciamo così, è stata la vera sfida. Però quello che ci ha unito credo è proprio la passione, la passione che sta dietro a questa creazione di gallery globale, gratuita, di contenuti, delle menti più brillanti del mondo. Quindi questa cosa ci ha trainato e ci ha portato poi anche oggi qui a dire bene ci siamo e la presentiamo, manca oramai una settimana.